Let's play Barricate la stanza, dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio Barricate la stanza, dobbiamo proteggere il contenitore di biori Barricate la stanza, dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio Barricate la stanza, dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio Barricate la stanza, dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio Barricate la stanza, dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio Ok. Elico individuato, piano terra. L'emico individuato, sanitarato. L'emico individuato, sanitarato. L'emico individuato, sanitarato. L'emico individuato, sanitarato. L'emico individuato, sanitario, 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 sanitario. L'emico individuato, sanita, sanitario, 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 sanitario. Trovate la posizione del contenitore di biorischio. 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 Contenitore di biorischio localizzato. Non dentro le stordette. Tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia. Detendete la stanza e proteggete il contenitore. Ultimo nemico rimasto. Tornate la posizione del contenitore di biorischio. Tornate la posizione del contenitore di biorischio. Tornate la posizione del contenitore di biorischio. Trovate la posizione del contenitore di biorischio. Trovate la posizione del contenitore di biorischio. il muro è stato rinforzato il muro è fatto non il nemico ha individuato il contenitore di bioristio le granate ormai non sono più un problema rimangono 10 secondi siamo a 5 secondi proteggete il contenitore di bioristio a tutti i costi che beccano pure apritemi il ricarico porta con trappola state alla larga due ultimo nemico rimasto ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.